È difficile da superare, vero Matteo? Assolutamente sì, è un giovane a cui gli auguriamo il meglio, è sempre visto il settore giovane del toro È un esterno, è un esterno alto, gli piace puntare l'uomo, rientrare Purtroppo questo tipo di giocatore nel canovaccio dottico di Juric c'entra poco, c'entra quasi nulla Juric non prevede l'esterno alto che rientra e gioca, non gli ha quasi mai fatto vedere il campo L'ha sempre confinato, quindi non... Speccato per questi anni, alla sua età è molto grave perderli, non giocare, eccetera, eccetera È al di là poi dell'infortunio, quindi gli auguro il meglio lontano da Torino per affermarsi e per fare molto bene E perché no, magari un giorno tornare a Torino e far sognare tutti quanti